Solidarietà significa stare vicini l'un con l'altro, significa percepire e credere profondamente che il bene individuale sia il bene collettivo, il bene collettivo sia il bene individuale. Solidarietà non può essere più sinonimo solo di assistenza né di mera filantropia. Solidarietà indica fratellanza, relazioni, capacità di coesione, con l'atteggiamento di costruire insieme una umanità nuova. Solidarietà ha dentro il significato di solido, di unito, di tenuto insieme, quindi ha dentro questo valore forte che va oltre la dimensione etica della parola. Mi sento di dire di intelligenza, di ragione, oltre a un moto del cuore, un moto della ragione. La solidarietà in questo momento storico è una rete che abbraccia gli anziani, una rete di persone, i vicini di casa, i piccoli esercenti, i negozianti, i portieri. La solidarietà passa attraverso le azioni che abbiamo messo in campo tutti insieme in maniera sinergica che hanno portato ad un miglioramento, ad un aiuto costante a sostegno delle famiglie, dei cittadini e cittadine con disabilità che si trovano in difficoltà. Grazie a tutti.